Sì, è veramente fantastico vincere così e sinceramente non me lo sarei quasi mai aspettato perché quando nella prima gara mi è presa a fuoco la moto, poi sono partito ultimo, la seconda curva mentre stavo rimontando sono caduto, quindi non avrei mai pensato di poterlo fare. Poi, non lo so, c'era ancora un'opportunità e alla fine dai, l'ho sfruttata. Ringrazio tutti, il mio team, la mia famiglia, gli sponsor, tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.